Ciao, sono appena tornata dalla serata che ho tenuto a Biela. È stata l'ultima di un ciclo di quattro incontri e adesso è successa una cosa bellissima. Ebbene, ho proposto un gioco ai partecipanti. Era un gioco che in realtà mi è stato suggerito dagli esseri di luce. Nulla era preparato. E questo gioco consisteva nel fare un lavoro sulle forme pensiero. Un lavoro che io stessa ho fatto poc'anzi su uno dei partecipanti, quindi su tutto il gruppo. Ebbene, senza dire nulla alle persone che si trovavano alla serata, le ho condotte piano piano, come se fosse un gioco, a fare questa esperienza. Praticamente c'era una tematica che era sbattere la testa contro un muro, quindi ripetersi di uno schema, continuare a fare qualcosa nel modo non corretto. E in base a questo ciascuno di loro aveva una tematica su cui doveva concentrarsi. Ebbene, come se fosse un gioco, loro hanno cominciato a percepire questa sensazione nel corpo e un altro dei partecipanti si è messo lì a lavorare su questa tematica. Ebbene, tutti quanti sono riusciti a trasformare, eliminare questa sensazione nei loro compagni di avventura. È stata veramente un'esperienza meravigliosa. Perché le persone sono riuscite a fare subito questo lavoro così importante, così profondo, così trasformativo? Perché hanno giocato. Noi esseri umani tendiamo sempre a rendere complicate le cose, quindi normalmente una tecnica del genere che può essere molto molto profonda potrebbe richiedere un studio lunghissimo, uno schema ben preciso, pagine e pagine da studiare, magari una decina di libri. E invece, le cose possono essere molto molto semplici. Quando tu ti permetti di usare la tua energia bambina e di fare le cose come un gioco, molto spesso hai dei risultati molto superiori a quelli che avresti facendo le cose molto molto seriamente. Questo perché? Perché quando tu utilizzi l'energia bambina ti fai meno domande e ti permetti di giocare. Quando tu giochi, non sei connesso con la tua parte razionale. Quella tua parte mentale alla quale è anche connessa l'ego. Quando tu sei lontana da questa parte, allora tu semplicemente fai le cose. Altrimenti quando tu ti connetti con la tua parte razionale, cosa accade? Cominci a farti tutta una serie di domande. Ma sarà giusto quello che sto facendo? Sarebbe meglio farlo in quest'altro modo? Oppure magari ho sbagliato qualcosa? Oppure la persona che sta lavorando su di me magari non ha fatto la cosa precisa, precisa come gli è stata indicata? Ebbene, quando tu non ti fai tutte queste domande, semplicemente le cose possono accadere in un modo magico. Quindi ricordate nella prossima volta che ti trovi di fronte a qualcosa di nuovo o a una sfida. Usa l'energia bambina, vedrai che ti aiuterà molto. Ciao, buonanotte!